Quando Labonelli fa certe cose merita proprio che si smetta di comprare certe sue serie, certe sue opere carissime amiche carissimi amici amanti dei fumetti ben ritrovati in questo video come avete visto una video recensione non è un video sugli uscite non è un video che sono tendenzialmente uso fare perché non mi vedete di solito mai prendere le parti di polemica non mi vedete fare i cosiddetti rant non mi vedete fare quello che molte volte su youtube viene utilizzato un po anche per fare visual in questo caso sono particolarmente stato colpito perché Labonelli l'ha fatta grossa o e mi ritrovo a dire l'ha fatta grossa per l'ennesima volta perché non è la prima volta che abbia dato adito a queste cose cosa mi sto riferendo mi sto riferendo forse ai prossimi aumenti di prezzi no mi avete mai visto fare questi rant queste proteste non è giusto perché aumentano i prezzi gli aumentano troppo non aumentano troppo no io non mi faccio questi video perché l'aumento dei prezzi lo trovo una cosa legittima da chi fa questo mestiere produce commercia fumetti e contestare questi aspetti quando poi rimani pur sempre nelle tue mani il potere di acquisto cioè se effettuare alla luce di quanto costa una cosa o meno l'acquisto mi sembra piuttosto futile certo nel caso di cose eclatanti o fuori di contesto ma sono più altre manovre più subdole manovre che giocano più su alcuni aspetti di debolezze del consumatore e su ciò che lo rende da letteratura per antonomasia il consumatore irrazionale no quindi noi tutti siamo umani noi tutti non siamo perfettamente razionali abbiamo le nostre percentuali di razionalità che ci fanno andare a compiere a fare e acquistare certe cose anche se ciò non è proprio sempre coerente con quello che dovrebbe essere un comportamento d'acquisto appunto più lineare e logico bene ma detto questo dei prezzi quindi parleremo in altre sedi in un altro video che presto forse anche direttamente a seguito di questo farò perché è stato un altro trigger che quando è venuto fuori mi ha scatenato a sua volta questa questa voglia di questa voglia di sfogarmi di esternare mio disappunto perché perché certe cose le posso accettare le posso digerire ma non posso stare a sentire certe minchiate o certe come in questo caso che adesso andiamo a vedere certe azioni che passano in sordina rischiava questo caso particolare specifico di passare in sordina se non avevo la community gli amici le cose a cui ogni tanto mi arrivano delle voci prima che io vada e spende inconsciamente l'obulo capita che io non possa accorgermi adesso vedremo anche perché di certe situazioni di certe cose ma andiamo al sodo andiamo a vedere a che cosa mi riferisco a che cosa ha scatenato questo mio disappunto nei confronti di l'ennesima iniziativa da parte di bonelli che mi trova in cassericcio proprio in cassericcio il volume fa riferimento a questo magari alcuni di voi l'avranno già sentito sparano già magari con di avranno già condiviso la cosa magari al contrario ci si erano schierati in un qualcosa che tutto sommato in questo caso non è così clamoroso come questo mio video questa mia dimostrazione vorrebbe far sembrare per me invece lo è io accetto come ho detto gli aumenti soprattutto in fasi in cui c'è l'inflazione c'è l'aumento del costo della vita c'è anzi queste cose che sono non sono così necessari no come le passioni come i fumetti come le altre cose hobby più o meno ritenibili futili diciamo a seconda ovviamente di quanto mi interessa il settore è chiaro che possono subire a volte molto anche di più questa incidenza perché rispetto ad altri beni ci sta che essendo secondari e terziari come importanza rispetto a quelli di sostentamento ad altri possano anche subire speculazioni non è però il prezzo qui non è e non so ancora anche ma non credo che aumenti in questo caso il prezzo di questo tex cosiddetto quello che veniva definito la serie alla francese in realtà è il tex romanzi a fumetti numero 19 di prossima uscita che tutti identifichiamo per formato per attitudine nella prima parte nei primi della sua pubblicazione in primi numeri della sua pubblicazione questa attitudine alla francese appunto per il formato per essere cartonato di uno spessore abbastanza ridotto rispetto a texone o anche persino agli albi regolari della serie regolare ma con pagine appunto di dimensioni più grandi in una colorazione e anche i livelli produttivi interni sia per i disegni sia per appunto l'attenzione alla colorazione degli altri aspetti che per esempio non sono presenti neanche nei conclamati texoni le hanno portati a definirsi i tex a essere finiti tex alla francese ma addirittura anche dalla stessa bonelli se non mi sbaglio in più di un'occasione problema innanzitutto anche prima che la questione di tex alla francese è andato un po scemando da diciamo interpretazioni inserimento di artisti di un certo livello e anche approccio attitudine quindi ricalcare effettivamente quel livello di dettaglio quel livello di produzione di una pagina decisamente importante a inserirci anche artisti che poi hanno dimostrato di poi magari apprezzabili da altri gusti sono gusti non mettiamo dubbi ma insomma livelli produttivi che sono sembrati non andare nella stessa direzione ma fin lì ma fin lì come dico può essere anche questioni di gusti uno può essere giustificabile o meno non lo chiamo più tex alla francese lo chiamo tex cartonato colori o tex fumetti a romanzi a fumetti o come lo vogliamo chiamare vabbè ci posso anche sempre la scelta mia di dire allora continuo a comprarlo oppure no è un peccato perché magari in mezzo li riempiono con alcuni albi meno riusciti ci mettono autori che non sono così attenti al stesso approccio la francese e mi perdo magari perché poi successivamente invece ne capita un altro come sono stati altri precedenti veramente bellissimi come tavole perché ho smesso di prendere questa testata o non vengo informato che il nuovo numero di questa testata presenta invece disegni come un tempo eccetera ma qui non siamo nemmeno questo livello qui siamo a molto e ben più peggio anche molti di voi che stanno guardandomi in questo momento lo sapete già dai che magari sapete a dove voglio andare a parare perché sono completamente indispettito perché questo numero di tex romanzi fumetti dinamite voi vedete maurizio dotti ora quindi sono per caso indispettito perché maurizio dotti uno degli autori appunto che non è magari affine alla scuola francese della linea chiara iper dettagliati assolutamente no non è per questo magari anche in questo caso si viene dato un tipo di lavoro come altri si impegna ma tantissimo e maurizio dotti è capace anche di fare delle opere anche molto importanti a livello di disegno dandogli il tempo lo spazio e il giusto diktat non è per questo è invece perché questo prodotto questo prodotto qui nonostante come andiamo a vedere non sia particolarmente specificato non è come tutti gli altri usciti fino adesso un inedito no non è un inedito questo fumetto è già uscito in un albo se non mi sbaglio in un magazine magazine numero quattro numero quattro tra l'altro questo text magazine numero quattro uscito neanche tanto tempo faccio non è che è uscito negli anni 90 o un albo uscito chissà quando nel 2018 dove conteneva due storie non vedono se tutti due forse si disegnati da dotti in cui si parlava in una di lilith nell'altra di dinamite dinamite il cavallo appunto di tex ok ora in una collana sempre fatta di inediti perché ci devi andare a ficcare qualche cosa che è già stato pubblicato punto primo mi rovina un po il senso di seguire una collana e comprare tutti i numeri di una collana a prescindere poi che non mi piacciono quando me li vado a leggere perché trovo che siano non a livello come disegni o la storia mi sembra abbastanza interessante oppure no è chiaro che se una serie è arrivata al numero 40 e dopo 15 numeri ha iniziato a fare sempre schifo dopo un po inizierò a farmi un po di questioni se valga effettivamente la pena continuare oppure no ma in un caso in cui ti possa piacere uno andare un po meno l'altro andare un po più di alternanza alla fine te la fai un po tutta ma quando all'interno c'è una storia gelita che quindi già tu possiedi e hai già letto ti dà un estremo fastidio soprattutto per uno come sottoscritto che colleziona storie non collezione edizioni non colleziona cose più o meno pregiate non sono un collezionista lo sapete io ho sempre detto non sono un collezionista che vuole l'alborauro eccetera me dammi anche quello che ce ne sono o di quell'albo lì 8 milioni di coppie sparse ovunque quindi è raro come trovare una zanzara d'estate con questi 35 gradi non mi interessa avere l'albo anche in forma pregiata quindi se io l'ho già letta questa storia qui non mi interessa rileggermela preferisco prendere altro ok e tu andandomela inserire in una collana di cui stavo prendendo tutti i numeri mi vai sostanzialmente a minare il mio interesse diciamo anche collezionistico perché è vero non collezioni edizioni ma di una serie mi piace averli tutti tutte le storie tutte le cose quindi il fatto che venga a mancare è vero questa ce l'ho già però è vero anche non mi sembra esternamente siano numerati se non vado errato non mi ricordo la costina non c'è io qui però anche se non c'è il costina il numerino nella costina e non si vede la progressione mi può dare comunque fastidio sapere che quando li vado a contare so che ne è usciti il prossimo che uscirà tra tot tempo sarà il numero 32 e io ho 31 numeri perché perché uno l'ho saltato sono cose che in una in uno che segue poi soprattutto cose seriale come la bonelli è la casa madre della serialità sostanzialmente soprattutto qui in italia ti danno estremo fastidio ecco perché sono qui a manifestare il mio fastidio e lo manifesto perché non ho visto anche relativamente in giro esposizione di un altrettanto disappunto anzi anzi alcune volte si è anche detto ma questa è una storia si è già edita però qui te l'hanno colorata i body screen non sono uno che va a fare i conti in tasca alle aziende per quello che loro intendono guadagnare intendo così perché comunque sono questi grossi editori che ci mantengono viva la nostra prossima che continuano a pubblicare per carità e maggior ragione perché so che cosa vuol dire comunque fare imprese so che cosa vuol dire comunque accettare il rischio anche di perdere eventualmente clienti però quindi tendenzialmente le cose le considerazioni legate semplicemente prezzo economicità eccetera non le considero in questo ambito qui tuttavia in questo caso mi viene da chiedermelo cioè che bisogno c'era di andare a fare questo tipo di operazione ora sembra che per chi segue tutti retroscena tutte le cose tutti i diktat i direct e le cose che vengono dette eccetera che boselli il direttore delle attestate insomma della text editoriale e tutto abbia detto che sono stati costretti stati costretti perché il prossimo numero che era in onda di deve essere pubblicato era disegnato previsto disegnato da gomez e gomez si sta prendendo troppo tempo per realizzarlo non ce la facciamo probabilmente rispettare i tempi ora non stiamo parlando di una pubblicazione seriale come il tex mensile da edicola dove se salti effettivamente un numero scompensi un po le persone se questa è una serie regolare si aspetta che esca ogni sei mesi ma anche i texoni certi autori si sono fatti anche aspettare e non per forza devi ricorrere a queste cose aspetta salta una pubblicazione salta una periodicità fa ritarda questa pubblicazione per qualche motivo e non credo che incorri in chissà quali penali sanzioni e quant'altro ok non perdi credo neanche più di tanto clienti perché andranno in edicole diranno ma non è uscito il tex e la francese ma non esce più poi dopo tot mesi quello che sarà il ritardo che ci sarà lo ritroveranno in edicola se lo vanno a comprare perché tanto parliamo di questo parliamo delle edicole principalmente anche se si tratta di cartonati eccetera la maggior parte la diffusione di queste comunque ancora in edicola come i tex in generale quindi che motivo c'era no perché noi dobbiamo assolutamente pubblicare decidiamo di fare questa operazione qui anzi andiamo a investire perché la proponiamo colori certo voi andate a proporre un'opera già edita andate a mettere pagare qualcuno che si dedichi alla colorazione e ovviamente nessuno penso sia così poco lungimirante ma vedremo che non c'è da stupirsi neanche di questo del pensare che quello che voi investite per andare a colorare una pubblicazione già edita poi vi vada a costare come un albo in edito come il prossimo futuro eventualmente che stiamo aspettando di Gomez no a voi costerà nettamente meno quindi su questo albo specifico su quello che magari vi toccava fare aspettare ci andrete a guadagnare Bonelli anche di più ci andrete a guadagnare anche di più quindi che non mi si dica siamo stati costretti che non mi si dica è piuttosto che non lasciare senza nulla i nostri lettori no li facevate aspettare li assalivate assalivate nel senso che gli facevate biasciaccare saliva per la voglia se era il caso ma non gli propinevate una rottura di collezione di serialità come questa con una pubblicazione non c'entra nulla perché già edita rispetto a una serie che propone storie inedite ci sono pubblicazioni della Bonelli che tendenzialmente sono inedite ma dove si sa dove si sa che può capitare perché più volte già successo vengano inserite in realtà delle storie già edite magari già edite rare in condizioni tipo nell'albetto presente speciale in quella pubblicazione che è strana magari quella pubblicata solamente in piccola cosa per la fiera magari che ne so tante possibilità di questo tipo qui tipo il color fest con il graucio tipo insomma tutte quelle pubblicazioni che può capitare il magazine lo speciale color quello quell'altro che presentino storie non mi fa piacere nemmeno in quei casi lì ma non è una tutta anche perché di solito non è che l'intero volume cioè in alcuni casi anche ma tendenzialmente non è nemmeno che l'intero volume è fatto di una storia già edita magari se ne è comunque qualche contenuto inedito eccetera eccetera qui no qui invece si andate proprio a rovinare secondo me questa serie una serie può anche cambiare target se non si ha più da spendere se non si ha più diciamo capacità di sostenere i costi per il pubblico che ha mi viene in mente la collana che a me è piaciuta sempre tantissimo le storie della monelli dove probabilmente esaurito e tantissimo materiale che avevano hanno cominciato a utilizzarla come contenitore cioè dove avevano delle serie che non centravano sostanzialmente con quello che era il contenuto perché dalle singole storie e di romanzi inediti pubblicati decisi di pubblicare in quell'occasione lì sono stati iniziati a inserire non so il ritorno di chi è che c'era adesso mi viene in mente il nome delle miniserie che sono state riprese ma il seguito di una miniserie una cosa su tre che fino a che si è arrivati al numero 100 di grazia questa è stata una delle poche cose che guarda ci sono anche sprecati per riuscire anche se con questi inserimenti non in filosofia con come si era aperta la serie comunque per il numero 100 e solo lì dire romanzi grafici purtroppo abbiamo finito quello che avevamo in casa quello che avevamo fatto produrre d'ora in poi vi cuccate le storie calte e vi ricicliamo quelli il numero 100 posizionato in libreria ho detto e qui si chiude la mia storia con le storie perché quello è il mio interesse bene poi sono interesse nelle storie culte è nato bene anche tutto il resto benissimo quantomeno se come messo poi e si è continuato a chiamare le storie culte anche come numerazione si è continuato per dare una parvenza di continuità secondo me inutile però ormai tanto anche col fatto dell'essere diventato contenitore si era sputtanata un po la situazione però si è comunque chiusa con un compimento qui invece non c'è nulla di tutto ciò ma la cosa che mi indispettisce sicuramente il fatto di avere un punto mancante cioè una serie che si rompe in questo modo qui sicuramente è la cosa principale che mi indispettisce ma non si finisce qui mi dispettisce appunto come ho detto anche perché se non avevo qualche d'uno che me lo accennava che quando si vedeva questa cosa qui e se ne parlava in una chat o qualche uno che ti accennava non ti diceva come ho visto letto come ho confermato nel vicogliaio eccetera che si tratta di una ristampa perché come al solito c'è l'altra questione che la bonelli ci gioca non sappiamo tanto su queste cose ci gioca ormai più nel tempo si sono sempre manifestate queste situazioni più è diventato esplicito che con un piccolo barlume di malizia un po ci giochi o se ne freghi scegliete voi cioè nel tipo che c'è il consumatore che l'abbiamo detto dove quando c'è scritto qui che è una redizione no nella copertina non c'è scritto dietro c'è scritto che è una redizione no aspetta ma vado nel sito nella pagina ufficiale della bonelli per vedere le informazioni sull'albo esce quindi romanzo fumetti numero 19 semestre l'ultima avventura di un grande eroe no c'è scritto soggetto sceneggiatura bogelli mauro dotti maurissio colori piazza luna eccetera e la descrizione della storia che fine a fatto di una mite il fedele cavallo di tex cavalca libero selvaggio con il suo branco in una valle dei monti navajos godendosi il meritato riposo ma tex è immortale pericolo obiettivo di una banda senza scrupoli che intende assassinarlo senza correre rischi e il generoso vestiero ancora una volta correrà in aiuto del suo amico umano ok c'è scritto forse che è una storia è una riedizione una riedizione colorata di qualcosa che non era con la non c'è scritto eppure non è che per la bonelli il fatto che sia colorata non significa che sia una riedizione perché bogelli lo ha detto dove l'ho detto allora qui non c'è nella pagina ma perché nella pagina non lo scrive carca misere se sono stronzo io che vado a pensare una qualche malizia dove l'ha scritto l'ha scritto nel suo account instagram ora questa cosa che la bonelli oltre in questo caso qui che te lo scrive nell'account instagram boselli ogni tanto capita sia capitato in passato che io sono andato a comprare un volume questa cosa si scopriva poiché c'erano della storia già state pubblicate già presenti già cose eccetera saltava fuori che quando dicevo ma non potevano scrivercelo che è una ristampa che è una cosa quando esce lo speciale di martin mister quando esce qui non possono scrivere in coprire no ma te lo devi sapere cioè come per dire che io devo essere un lettore per forza dal 58 perché se non sono lettore del 58 nella casa se ne può anche fregargli ma non sono abbastanza fedele ma ma magari io leggo talmente tante cose che questa l'avevo anche già letta nel 2018 che non sono passati tanto tempo no e quando me la ritrovo qui sono talmente però convinto che qui è una collana di inediti che anche se c'è dinamite l'album si chiamava se non mi sbaglio dinamite quello speciale era solo poi la storia interna che si chiamava dinamite ma comunque quel magazine magari l'ho letto non ha la stessa copertina ok quindi non ci sono tutti i collegamenti io devo mettermi lì la mia testa non deve pensare sai che queste labonelli caro viper dovresti sempre stare su chi va là quindi aspetta un attimo fai due più due broselli più dotti quindi magari questa combinazione sembra una cosa più storica almeno però perché non possono avere anche pubblicata una storia pensando di essere meritare questa questa pubblicazione su questa serie perché no e devo ricorregarle collegare che quella storia era scritta da dotti c'era scritta ed era su dinamite devo ricordarmelo perché deve avere una memoria di ferro cioè probabilmente ce l'avrei ma dovrei leggere solo tex o tex e poco altro ma per un lettore appassionato a 360 gradi che legge tutto e tutta la bonelli e tutti i francesi possibili immaginabili i comics i manga e tutto quanto non puoi stare dietro ricordate tutti e non puoi stare dietro e giustificare che boselli l'ha detto in un suo tweet su instagram che magari si è messo a scrivere mentre era sul cesso a cagare io non seguo boselli mentre va a cagare a scrivere sui cazzo di tweet di cui io devo per qualche motivo essere scontato che devo essere e venire a conoscenza prima di andare in edicola e ritrovarmi a pagare un qualche cosa che se sapevo prima che cos'era non pagavo ok non devo avere la schiera di amici che quando capita è per fortuna ma non sempre posso essere posso sperarci che la fortuna mi baci continuamente mi avvisa prima che sia troppo tardi ok non può essere che sia l'account instagram il tweet su instagram che sia il tweet su x che sia facebook che sia la pagina ufficiale di qualsiasi cosa un qualcosa in cui ti viene specificata una cosa così importante per un tipo di serialità perché qui è come che dentro la solito pacchetto di merendine di cose che ti vai acquistare al supermercato ti aspetti sempre una determinata cosa in realtà te la cambiano senza accennarti niente senza dirti nulla senza farti percepire la cosa che dovrebbe essere scritta non dico a caratteri cubitali per rovinare la copertina ma in una maniera appena percettibile tanto da indurti a dire aspetta cos'è che c'è scritto cos'è che succede qui rispetto al solito c'è questo cambiamento io devo e lo ribadisco seguire tutte le cose che stanno dietro così anche per dire allora non sei un appassionato sì che sono un appassionato sono appassionato a 360 gradi solo che non leggo solo tex non ho quindi non ho le 24 ore del giorno o tutte le ore posso dedicare questa mia passione per quando ho smesso di leggere tutti gli albi ogni singola pagina del tex stare dietro all'intervista che fa tizio all'intervista che fa caio al nuova live che fanno durante il luca comics all'altro evento che in cui dicono e annunciano quell'altra cosa che la diranno solo lì non la diranno nessun'altra parte cazzo c'è una pagina ufficiale di un prodotto in cui se proprio non lo vuoi scrivere nella copertina per una qualche motivazione a cui ti aggrappi lo devi andare a specificare qui perché in altre pagine lo fanno in altre situazioni lo scrivono che questa storia pubblicata una volta viene finalmente riprodotto eccetera non lo so se nemmeno nel sito da qualche parte c'è una news che lo riporta perché io non mi sto a sfogliare da cima a fondo quotidianamente il sito della bonelli la bonelli da la descrizione dei prodotti è come che la ferrero ti dice se vuoi saperne di più sui valori produttivi del nostro kinder bueno facciamo pubblicità oltre a tutto quello che è obbligatorio che scrivono nella loro etichetta se ti presentano un sito dove puoi prendere e andare a prendere ulteriori informazioni nutrizionali o quant'altro deve esserci scritto anche lì o quantomeno anche lì ciò che serve a informarti sul quella tal merendina e deve essere scritto lì non deve essere che su quella tal merendina voglio delle informazioni e allora devo seguire tutto quello che la kinder fa nel mondo avete capito forse che su un attimo appunto con un certo disappunto in merito a questa iniziativa non si tratta di aumento dei prezzi si tratta probabilmente comunque di un atto speculativo in cui invece che tamponare una situazione riusciranno anche a guadagnarci di bravi loro chissà sono inventata mi fa incazzare quando questa cosa anche degli altri utenti oltre che magari addirittura a passare in su di una riesci anche a essere ma ci voleva ci voleva che questa storia me la facessero pure ancora ma non lo dico che non ci voleva ma magari anche prestabile magari c'è chi la gradiva ma me la vai a pubblicare in una di quelle pubblicazioni da libreria in cui le famose collane riprendono e ripubblicano storie più le più belle le più famose le più cose messe in un determinato ambito magari appunto colorate se lei meritava essere colorata non me la fichi qui perché ti dico che in questo modo me la sento ficcata da qualche altra parte anche se non me la andrò a comprare mi sento ficcato per un discorso di ribadisco mancanza di completismo della serialità e cosa succede in quella cosa lì che una volta che tu perdi questo completismo della serialità di una serie che perdi un numero per un'altra cosa quando ti capiterà che esce un altro numero e anche se è una pubblicazione inedita ti dici ma sì ma tanto di questa collana non ce li ho proprio tutti tanto è saltato anche quell'altro numero quindi se questa cosa mi convince proprio poco sfogliando dico ma cazzo i disegni non sono neanche tanto belli sai che c'è o me lo faccio prestare dall'amico che se lo prende me lo leggo per togliermi la curiosità e non me lo compro per mettere in libreria ti fa scattare il non aver più questa competenza della serialità questo trigger questa cosa e quindi ti torna poi indietro come un boomerang così come ti torna indietro come un boomerang in altre occasioni che ci sono state in passato non rispettare la conclusione delle pubblicazioni di alcune cose perché perché la gente non leggeva più abbastanza perché non c'era più seguito e quindi tagliamo e quindi una cosa che pensavano andare avanti invece tagliata la fai una volta lo fai due volte poi dopo la gente comincia a smettere di avere credibilità sul fatto che comunque la bonelli la serialità la porti avanti o quantomeno ti faccia arrivare a determinati spunti ed obiettivi pur di raggiungere quei traguardi che quantomeno si reputano accettabili almeno arrivare fin lì quindi non voglio essere ipocrite non voglio essere di quelli che dico basta è uscito questo adesso questo con questa cosa la bonelli ma stufato non compro proprio niente no perché come dal lettore da cose sono comunque interessato a quello che producono e di certo una cosa di questo genere in altre occasioni come detto in cui dico ma tanto poi alla fine se è una cosa che non è certo che portino avanti aspetta che prima di scommettere di metterci e di proseguire una serie aspetta che sto a vedere quanto avanti se arriva avanti perché se poi invece non lo fa la prossima volta ci penso a volte all'ultima volta che è successo anche se c'erano casi stati più eclatanti quello che mi ricordo l'ultimo era famoso text will e la pubblicazione dei cartonati a colore in quel caso lì un po me l'aspettavo sarebbe stato strano che oltre alla pubblicazione in bianco e nero seriale ed edicola quella a colori cartonati la portassero avanti con tutte le storie quindi la potevo seguire cartonate eccetera in quel formato che preferivo ovviamente dopo un po' hanno iniziato a farla solamente bianco e nero e magari neanche metterci tutte le storie il fatto che non ci sia questa continuità che non si dia questa continuità anche se non te lo specificano subito che non la garantiranno eccetera e non soltanto non sono portati a farlo così fa sì che le prossime volte che ci sarà altre iniziative altre iniziative ti dici aspetto aspetto di vedere come va magari poi finisce che quindi mi interessa va anche a buon fine me la voglio comprare mi toccherà comprarla dell'usato e cosa ci guadagnerà la tex in quei fulventi che io vado a comprare dal mercato dell'usato così come questa cosa qui quello ti capita che ti instilla quel trigger e vabbè tanto ormai ha saltato un numero un'altra volta chissà che non ci penso due volte rispetto semplicemente a leggerlo invece che andarlo meno ad acquistare per forza ecco cosa porta secondo me non alle altre ipocrisie noio non comprerò più bonelli con questo chiuso noio assolutamente la massima razionalità massima sincerità e come in questi casi semplicemente venirvi a mostrare mi dice appunto è quello che io reputo normale avere in manovre come questa qui manovre viziate e che rendono quella malizia che tante volte viene fuori tanto nel dire no la bonelli lo fa apposta non dire niente non scrivere nella copertina a far sì che tre volte ti dico gli appassionati ovviamente i tifosi no appassionati tifosi che ti dicono no non è vero che per questo se te che non ti sei informato abbastanza se te che non sei stato a vedere abbastà io più di così più della copertina e quando va eventualmente anche aprire l'algo e vedere nemmeno lì a volte può essere scritto nelle prime pagine e nemmeno nella pagina ufficiale il prodotto essere riportato il suo bel bannerino questo è stato una ristampa di una famosa storia scritta da per me è già abbastanza per scatenarmi tutte le malizie che vi ho detto fatemi sapere se condividete in parte oppure no qui sotto nei commenti questo disappunto fatemi sapere se quindi lo comprerete lo stesso non lo comprerete lo comprerete a malavoglia rispetto al solito vi verrà quel triggherino che vi ho detto in altre occasioni insomma come al solito è fatto apposta per confrontarci e non faccio altro che mettere questo disappunto non certo perché la bornelli seguirà le proteste o l'edicto sta ascoltare il viper perché assolutamente non gli sposta i bilanci anzi gli sposta ben più i bilanci iniziative di questo genere qui non spero certo in questo semplicemente è un modo sia per sfogarsi ma soprattutto anche per poi avere un confronto in proposito e merito perché magari mi accorgo e confrontandomi assieme a voi la faccio troppo esasperata e non c'è per una cosa di questo genere qui da pensare così male qui sotto nei commenti lasciate telegramma come al solito per chi vuole condividere le cose anche più continuativamente per tutto il resto ci vediamo ai prossimi video e penso che il prossimo ci ritornerà a incappare un po le abonelli ma non si parlerà e non si partirà da quello vedrete che cosa consiste penso tra non molto ciao da viper nella prossima ciao 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 ciao